Molto interessante tutta la tematica che abbiamo affrontato intorno all'energia che da una parte è un tema molto critico in questo momento, sembra quasi che le nostre imprese debbano soffrire, morire, chiudere per colpa dell'energia, in realtà con fabbrica scopriamo in ogni occasione opportunità di cambiamento, idee per il nostro futuro e quindi in generale un modo positivo per costruire l'impresa in Italia oggi.